Sì, vediamo la neve sul numero 34 della Ustila di Inns. Il numero numero si dice con un articolo di sanità, in cui si dice il poster della Valbadia i dati sanitari di pazienti vengono a cercare sulla carta sanitaria elettronica. Dell'attualità si risuona della situazione grieva di Gaza, con la testimonianza del giornalista in via di Vera, Lorenzo Cremonesi, e del vicario della custodia di Terrasenta, padre Ibrahim Faltas. La piatta di Gardena si è avuto con un articolo sulla festa per il cedean dell'Associazione di Menacrepes Gardena Guides. L'inscritta in cede il mudamento tesontale di Comune di Santa Cristina. E la piatta in trie è dedicata a Adam Demetz, che ha tolto la decisione di mudarsi a vita. Sulla piatta di Fodoms è per l'eser den grob di volontà diva, che ha perduto i stasi accruzziare e rincurare i fiori. Dal pezzo, invece, è una piatta in trie dedichata alla festa della band, che si tainante perduta una settimana. Dalla piatta della Valbadia, è un rapporto sui gran festeggiamenti per i 150 anni della gesia neva della Val, e un approfondimento con il vizedirettore forestale da Borneck sulla situazione del bosco e del Beckerle. Sulla piatta di Fascia si è regione di Medesina, con il mudamento antaridottore della famiglia, e sotto il titolo è invece la nomina dell'Associazione Artesain della Val. Una piatta in trie è dedicata a una intervista all'autore del libero sull'alpinismo fasciano quando veniva fuori a 25 anni, storie che si lega a quelle di un cedino importante che ha scritto la piatta della Rampineda sul Cadenac, un gruppo di suonatori della musica di Moename su una Bömische, e a piede del chanton dell'Unione di Ladins con l'invitaico Scricci al pellegrinaggio a Oies. Su titolo è un altro retrato in Biancheneiger, che ciuta fuori dalla crinia di Recorch. Sulla piatta di Sport le una intervista al Neve Head Coach dell'Hockey Fascia che ne porta davanti la Neves, e trova i risultati della gara di corsa a Tadelba, e chi della Coppa Provinzia della squadra del Ballon del Gardeina. Sulla Ush di Ladins ogni vendere potete trovare la Neves da tutta la Ladinia. Per info e abbonamenti potete usare la redazione di Fascia del Cazzo della Monieria Senzan. Telefon 0462 76 45 45 Mail Fascia sgnecola laus.it Il sfo interladin lente online sul sit laus.it o te la bottegas del Sfoes di Dutta Laval.